Ciao a tutti, oggi nuovo tutorial in collaborazione con Yupla Craft. Per l'occasione ho pensato di realizzare questa decorazione natalizia per la casa utilizzando la cornice casetta che vedete sul davanti. All'interno ho inserito poi tante decorazioni nella nuova collezione invernale natalizia di Yupla. Bene, spero che il progetto potrà piacervi. Ciao! Grazie a tutti! 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 a tutti! a tutti! a tutti! Grazie a tutti! 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 a tutti!